Nessuna apertura di Forza Italia sulle preferenze e quanto è emerso dopo l'incontro tra Denis Verdini e Maria Elena Boschi. Forza Italia potrebbe invece concordare su un innalzamento della soglia sopra la quale prendere il premio di maggioranza dal 35 al 38%. Il tema della riforma elettorale continua così a tenere banco nel dibattito politico, ad intervenire anche il premier Enrico Letta, secondo cui sarebbe preferibile per i cittadini poter scegliere attraverso le preferenze. Anche Angelino Alfano si è augurato che sul no alle preferenze Berlusconi si ravveda. Contro le preferenze invece il ministro Dario Franceschini, secondo cui reintrodurle, sarebbe un errore. Per il segretario P.D. Renzi le modifiche sono possibili, a pato che tutti siano d'accordo. Un accordo politico che è parallelo alla democrazia parlamentare non sbilisce minimamente la democrazia di tutta la sua caratura, di tutta la sua forza. Quindi detto questo, se c'è un accordo politico l'accordo terrà. Se l'accordo politico muta, l'accordo politico che muta provocherà il mutamento del contenuto della legge elettorale. È molto semplice. Non mi sembra che questo colpo di grande classe di Berlusconi e Renzi possa essere scambiato come un tentativo di attentare all'autonomia del Parlamento. A me sembra esattamente il contrario. Noi abbiamo espresso un parere favorevole alla possibilità di una delega al governo per il disegno dei collegi plurinominali. Abbiamo registrato un'importante apertura politica di Forza Italia su questo tema in Commissione e quindi ci auguriamo che le prossime ore siano fertili per raggiungere questo risultato. La legge elettorale praticamente non esiste perché i signori hanno pensato bene di fare dei collegi di 25 anni fa al punto tali che, siccome come vedete manca tutto, mancano i seggi da assegnare agli abitanti, se il Presidente della Repubblica dovesse ora con questo testo di legge sciogliere le camere non potrebbe farlo. È questo quello che accade. di persone, di gruppi che prima dichiarano la loro posizione e poi magicamente quando passa la collega Boschi diventano all'improvviso favorevoli a un testo che non esiste. Tolga questo cartello per favore. Chiedo ai commessi di intervenire. Collega Simone Valente, la richiamo all'ordine. Colleghi, rimuovete questi cartelli e alzatevi da terra per favore. Allora, colleghi, collega Sorial, la richiamo all'ordine. Collega Simone Valente, la richiamo all'ordine per la seconda volta. Allora, colleghi, rimuovete questi cartelli per favore. Abbassate questi cartelli. Chiedo ai commessi di intervenire. Per favore, colleghi, colleghi, rimuovete questi cartelli. Chiedo ai commessi di intervenire. Allora, per favore, alzatevi da terra e facciamo andare avanti i lavori. Colleghi, collega Vignaroli è espulso dall'aula. Si allontani dall'aula, per favore. Colleghi, per favore, alzatevi da terra. Allora, chiedo ai commessi di allontanare. Colleghi, abbassate il tono della voce. Allora, collega, collega Pesco. Colleghi, 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 deputato Alberti, la richiamo all'ordine. Allora, io ho intenzione di proseguire questa votazione. Colleghi, non è possibile riprendere. Allora, penso che possiamo andare avanti. Mi appello al buon senso. Vignaroli, Battelli, per favore, allontanatevi. Colleghi, allontanatevi. Allora, la collega Terzoni è allontanata dall'aula. per favore, per favore, si allontani dall'aula. La collega Terzoni è allontanata dall'aula, per favore. Colleghi, colleghi. Allora, collega Dinka, collega Dinka, io la invito a tenere, a far tenere al suo gruppo un comportamento dignitoso. Per favore, collega Dinka, lei è capogruppo. Collega Iannucci Cristian. Basta, mi alzo. Certo, perché Luigi Di Maio fa il suo dovere, quindi applica il regolamento come deve essere fatto, però noi dall'altra parte facciamo la nostra protesta. Grazie a tutti.